Nautica e disabilità si incontrano nel nuovo progetto Vela4All con un unico scopo migliorare la qualità di vita delle persone con paraplegia e tetraplegia. Otto pazienti dell'ORAS di Motta di Levenza impareranno ad andare in una piccola barca a vela grazie a delle sedute di allenamento su di un'imbarcazione della classe ANSA installata su un simulatore. Durante le lezioni verrà ricreato anche il vento. Dopo un mese di corso agli allievi sarà possibile anche la prima uscita in mare. Quindi una persona che muove solo il mento riesce da solo a guidare la barca. Si realizza un sogno? Si realizza un sogno perché per avviare una persona alla vela quando ci sono queste limitazioni così importanti serviva una struttura come ORAS, quindi un ospedale riabilitativo che mettesse insieme le competenze dei velici della Lega Navale e dello Spirito di Stella insieme a quelle mediche fisioterapistiche. Con il supporto di un'equipe medica multidisciplinare, completa e di tecnici di straordinario valore si potrà ridare nuove prospettive di vita ai pazienti in riabilitazione. In particolare quelli che hanno lezioni dei quattro arti, per cui i tetraplegici. Vorremmo provare in loro dei sistemi di comando e vedere come questo tipo di attività possa facilitare la qualità di vita di loro una volta ritornati a casa. Partiamo proprio dal medico, dal fisioterapista che ci daranno la garanzia che quello che stiamo facendo non crea innanzitutto un danno alla persona, funziona e va bene. E quindi per questo è sperimentale, per questo è unico a livello mondiale. Siamo soddisfatti perché siamo riusciti a mettere insieme le risorse del nostro ospedale, dell'iniziativa Lo Spirito di Stella, della nostra ULS e della Lega Navale, quindi di tanti attori diversi, compreso il produttore della barca a vela che si è reso molto disponibile per questa sperimentazione e anche poi per implementarne l'uso nel futuro, nella pratica quotidiana. Il mare è un ambiente libero e senza barriere. navigando puoi dimenticarti della sedia a rotelle, tornare a un grande senso di normalità d'ora in poi il sogno di alcuni pazienti potrà diventare realtà. Sicuramente sarà una bella esperienza.